e invece quali altre scarpe intermedie consiglieresti in alternativa rispetto a queste? è simile a questa scarpa ti direi... aspetta che c'è il tempo che c'è a te adesso devo fare una lista delle scarpe che ho usato da quando ho iniziato a correre ossia da 2009 ho sempre pensato che potesse esistere un algoritmo ossia un metodo di calcolo che mi permettesse di stabilire a priori se un paio di scarpe che non ho ancora testato fossero simili invece ad una che ho particolarmente amato questo algoritmo in effetti esiste in altri campi e si chiama collaborative filtering ne parleremo magari più avanti sul canale questo algoritmo funziona molto bene per scarpe ben collaudate un po' meno per scarpe innovative e sicuramente non ancora presenti sul mercato mi sono dovuto spostare perché è iniziata a piovere ad ogni modo se aggiungiamo che questa scarpa è un po' meno conosciuta un po' meno utilizzata anche il podista amatore che ha provato un centinaio di scarpe si troverà in difficoltà a trovare un paragone con un modello equivalente detto ciò vorrei ringraziare Running Warehouse che mi ha fornito la possibilità di testare questo marchio On, On, azienda svizzera fondata nel 2010 con l'obiettivo di offrire un modello di scarpa diverso rispetto a quella esistente On in effetti offre la possibilità di un appoggio morbido al terreno ma al tempo stesso una reazione propulsiva una volta appoggiato il piede Running Warehouse mi ha fornito il modello On Cloud che, veniamo alle spec, è di 224 grammi drop 6, 24 mm nel tallone, 18 nell'avampiede la On Cloud è una scarpa molto flessibile ed ha come elemento distintivo quello che l'algoritmo non è in grado di prevedere il sistema Cloud Tech è un sistema di 18 cuscinetti che consente al tempo stesso morbidezza e una sensazione di spinta importante e voi mi chiederete, tutti potranno sentire questa sensazione di spinta? questo sicuramente non lo so, sono scarpe che ancora attualmente non sono così diffuse se non in particolari ambiti, triathlon o ultramaratona al tempo stesso conosco poche persone che le hanno provate e mi saprete dire se l'avete fatto altre due cose prima del solito giro, scarpa, corsa, intervista e slow motion in primo luogo l'allacciatura è di due tipi noi abbiamo preferito quella tradizionale perché mi consente di avere un maggiore bloccaggio sul collo del piede la Tomai è abbastanza traspirante anche se l'unico modo di vederlo confrontando con altre scarpe è quello di misurare la temperatura prima e dopo la corsa per quanto riguarda la stabilità è anche questo un elemento distintivo è presente un solco nella parte centrale della scarpa abbiamo visto sul tapis roulant che questa scarpa consente in effetti di andare in maniera molto stabile a correre a tutte le velocità la consiglio assolutamente sì, non ai pronatori ma come tutte le novità dipende dalla vostra propensione al cambiamento e qui come al solito l'algoritmo non sarebbe in grado di prevederlo e nemmeno io e con ciò lascio la parola alla scarpa qui sta iniziando a diluviare e poi bombarderò di domande l'esperto podista ed ora la parola alla scarpa in the underground we're living low key can give you peace here in your mind and as I have found no place in the day to night to come alive life is waiting on the other side follow me to the underground watch the world changing as the sun goes down follow me to the underground follow me follow me follow me to the underground follow me follow me follow me follow me into the inner ciao Andrea, oggi nuovo marchio sul canale ON cosa ne pensi di queste on cloud? è una scarpa che mi ha sempre incuriosito soprattutto per per la forma della suola e del battistrada e oggi le ho provate per la prima volta secondo te a chi sono adatte queste scarpe ovviamente le hai provate solo una volta io qualche volta e ho fatto anche un lungo ma cosa ne pensi? ecco io non ci farei lungo forse no ci farei le gare sicuramente è una scarpa molto leggera è una scarpa che ti fa correre molto di avampiede è molto strana perché sembra sembra molliccia invece dopo è consistente e ti dà una buona spinta è molto molto anche reattiva e secondo te per quale distanze le utilizzaresti? guarda in allenamento se dovessi fare dei medi li userei anche fino ai 15 16 17 chilometri se dovessi fare anche ripetute più corte non le non le disdegnerei perché mi sembra molto reattiva e molto leggera al contrario dei 220 grammi che da pesa e le userei su distanze in gara fino alla mezza maratona maratona non so se mi spingerei poi e per quale tipologia di podista? podista leggero e direi relativamente veloce starei sotto i 4 15 al chilometro per l'utilizzo intensivo ovvio che se dovessi fare delle delle ripetute potrei anche usare a ritmi un pochino più lenti mi sembrano comunque anche molto molto comode credo che possano anche andare bene per camminare cosa ne dici? diciamo che quando vai in giro per le città d'arte vedi spesso le on o vedi spesso le speed cross della salomon quindi direi che è una scarpa che che si presta per le camminate passeggiate e gite cosa ne pensi della del battistrada? allora il battistrada ha la gomma più dura nella zona di maggior utilizzo soprattutto per noi neutri o supinatori non dovrebbero esserci problemi ho notato anche un buon grip sul sul terreno mi spaventa solamente la possibilità che si possano incastrare dei sassi nelle pieghe si conferma che alla fine si incastrano ogni tanto e il solco che trovi nella nella parte intermedia le rende particolarmente stabili come l'hai visto sul tapirulano? si devo dire devo dire che mi hanno mi hanno spinto a correre in avampiede quindi fondamentalmente le sentivo già già stabili per quello e non sento in effetti sbaldamenti laterali che comunque sento con poche scarpe però vabbè sono anche la tomaia abbastanza costringente quindi ti tiene ben saldo so che di solito sul tapirulano non vai più di 18,6 perché sei molto distratto con queste comunque invece a 20 ci andavi abbastanza tranquillamente diciamo che non sono distratto dalle belle donne ma sono distratto da non lo so sul tapirulano davvero non mi trovo e continuo a sbaldontolare con queste qua devo dire di no mi sentivo molto a mio agio e cosa ne dici dell'intersuola? guarda come ti ho detto prima strana perché sembrano mollicce mollissime invece dopo quando le 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 indossi le usi per correre sono sono delle scarpe abbastanza diciamo dure non scomode ma ben fatte direi e quanto credi che sia la durata di questa scarpa? la durata non lo so vedremo e qualcuno si lamentava della poca durabilità della dell'ammortizzazione perché si rompevano però so che hanno migliorato quindi staremo a vedere magari nelle prossime settimane visto che comunque corriamo tanti chilometri possiamo riaggiornare esatto faremo un aggiornamento e invece a livello di numero visto che hai avuto un po' tra virgolette difficoltà a calzare questa scarpa cosa ne pensi? allora questo qua è il numero di max quindi mezzo numero più piccolo per la lunghezza ci sono ci sto dentro comunque tranquillamente mi dà un po' di problemi sul collo del piede diciamo che ho il collo del piede abbastanza alto e questa scarpa qua me lo stringe abbastanza quindi rimarrei a prendere a consigliare lo stesso lo stesso numero americano che avete delle scarpe solite che usate e quali dici che sono i punti di forza e di debolezza di questa scarpa on cloud? guarda punto di forza ti direi che è un'ottima scarpa per il fatto di leggerezza e reattività ripeto non direi mai che sono 220 grammi di scarpa indossata punto di debolezza secondo me è un po' la tomaia classica è rimasta un po' pesante per qualcuno potrebbe essere un po' pesante nel periodo estivo quali altre scarpe intermedie simili consiglieresti? ok è simile adesso mi è venuto è una scarpa simile alla boston o alla una dios diciamo perché comunque anche loro sembrano morbidose poi alla fine invece le trovi quasi dure e reattive l'idea è molto simile ok grazie andrea ci vediamo alla prossima alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti